Giocare imparando per scoprire le tante potenzialità della tecnologia, nonché dei segreti dell'animazione e di come la grafica consenta di ottenere risultati incredibili. Pomeriggio di divertimento all'Urban Hub di Belluno, in piazza Angelina Zampieri, per alcuni giovanissimi bellunesi che magari un domani, chissà, potrebbero trasformare la propria passione per il mondo digitale in un lavoro. L'obiettivo è far conoscere la tecnologia ai più giovani, ma soprattutto renderli utilizzatori attivi, quindi non solo prendo in mano il cellulare e magari uso un giochino, ma prendo un circuito e lo programmo io, quindi creo io magari il gioco. Questo è un po' l'obiettivo che abbiamo qui in Fab Lab in generale, ma soprattutto con questi Family Day cerchiamo proprio di raggiungere i ragazzi più giovani. Rendere i giovani protagonisti dunque del loro futuro, favorendo la condivisione di competenze e conoscenze, in primis in ambito digitale, contribuendo così anche ad accrescere l'attrattività del territorio, a questo mira il progetto Urban Hub Contamination Lab Belluno, capace di offrire ai piccoli utenti differenti opportunità. Ci sono tantissime cose, ma in particolare sono tutte legate alla tecnologia, quindi tutta la parte di Arduino, di Microbit, che è un'altra scheda di programmazione, la parte di robotica, quindi il robot per imparare a programmare questi robot effettivamente, e poi ci sono anche, per dire, dei Lego, per sviluppare comunque la creatività anche proprio dai più giovani. Un modo dunque per passare un sabato pomeriggio insolito, dove sperimentare gratuitamente nuove attività, dando sfogo naturalmente al proprio talento.